La chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele avrebbe effetti disastrosi per l'intera città di Catania. I consiglieri comunali Carmelo Sofia e Francesco Saldimbene chiedono al sindaco Bianco e a tutti i soggetti interessati di prendere immediatamente gli opportuni provvedimenti per evitare un problema che avrebbe il solo effetto di mettere in ginocchio il pronto soccorso del vecchio presidio ospedaliero del Garibaldi. Da gennaio ad oggi il presidio di Via Plebiscito, spiegano i consiglieri, ha registrato un aumento dell'utenza del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, numeri che devono far riflettere e sottolineano la delicatezza di una questione che va valutata in tutti i suoi aspetti per il bene della città. In quello che tutti conoscono come il vecchio Garibaldi, infatti, ci sono circa 75.000 interventi l'anno, mentre il pronto soccorso del Vittorio Emanuele ne effettua quasi 60.000. Chiudere la struttura di Via Plebiscito comporterebbe un aumento di circa 30.000 casi l'anno per il Garibaldi che non dispone di locali e personale adeguato per un simile scenario. Va considerato poi, proseguono i consiglieri, che chiudendo il presidio del Vittorio Emanuele nella fascia interna di Catania mancherebbe il pronto soccorso pediatrico e ginecologico. Oggi gli unici servizi di questo tipo si trovano al nuovo Garibaldi d'Inesima e Alcannizzaro, molto decentrati dal resto della città. Negli ultimi mesi è stata prevista la realizzazione di un nuovo pronto soccorso nel vecchio presidio ospedaliero del Garibaldi. Per l'opera sono già stati stanziati 16 milioni di euro. Il progetto è pronto ed è stata pure bandita la gara di appalto, che però procede tra lungaggini burocratiche penalizzanti per le esigenze della città, da qui la richiesta dei consiglieri di accelerare l'iter delle procedure concorsuali e di velocizzare i tempi della gara d'appalto. Era latitante da quasi due mesi, accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Salvatore Tonzuso, 65 anni, esponente dell'organizzazione mafiosa dei Cursoti milanesi, è stato intercettato dalla polizia e fermato in via Cantone, nel quartiere di Cibali, mentre era alla guida di una Volkswagen Lupo. Alla vista degli agenti, l'uomo ha opposto resistenza tentando la fuga, indagato anche per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Espletate le formalità di rito, Tonzuso è stato rinchiuso nel carcere di Bicocca. A quasi tre settimane dallo sgombero della palazzina di via Furneri, a rischio crollo, gli abitanti supportati dal comitato Casa per Tutti sono scesi questa mattina in piazza per chiedere chiarezza sull'immediato futuro, scadendo la prossima settimana il termine fissato per l'ospitalità nei quattro BNB a spese del comune. Una delegazione degli inquilini è stata ricevuta a Palazzo degli Elefanti dal vice sindaco Marco Consoli e dall'assessore Angelo Villari. Stamattina ci siamo presentati qui appunto con le famiglie sgomberate da via Furneri perché la promessa era stata di due mesi di alloggio in BNB e nel frattempo trovare delle altre soluzioni alternative, mentre avevano ricevuto giusto ieri dai BNB la notifica che il 16 avrebbero dovuto lasciare gli alloggi. E quindi chiaramente ritrovarsi in mezzo alla strada dopo neanche un mese dal sgombero precedente è una cosa veramente assurda, soprattutto perché il comune aveva promesso questi due mesi di BNB. Una volta qui sotto, avendo fatto anche un po' di pressione, siamo riusciti a salire a incontrare il vice sindaco Consoli e l'assessore Villari che hanno garantito che per almeno altri 30 giorni ci saranno i BNB a disposizione, quindi le famiglie non dovranno lasciare i BNB e domani ci sarà già un altro incontro ottenuto all'assessorato alle politiche sociali per riuscire a trovare in questo mese delle case che possano essere compatibili con il bono casa messo a disposizione del comune. Quello che si dice e che si chiede è un alloggio garantito per tutti e fino a quando ovviamente questo non verrà messo in atto dal comune che l'ha promesso nessuno sarà contento. Da domenica prossima il Mercato delle Pulci si terrà alla Vecchia Dogana. Il trasferimento che sarà temporaneo è stato reso necessario a causa dell'ingrandimento del cantiere dei lavori in corso al porto di Catania che ha ridotto l'area mercatale, oltre a porre una serie di problematiche legate alla sicurezza dell'intera area. L'assessore comunale alle attività produttive Angela Mazzola nei giorni scorsi aveva incontrato gli operatori chiedendo se fossero disposti gratuitamente a trasferirsi nell'area della Vecchia Dogana nel periodo limitato all'esecuzione dei lavori. Abbiamo cercato di trovare una soluzione temporanea per dare continuità al mercato, ha spiegato la Mazzola. Domenica con i soliti orari il Mercatino delle Pulci si terrà nella Vecchia Dogana. Quando finiranno i lavori tornerà nell'area che lo ha ospitato fino ad oggi. Un sopralluogo nell'area adiacente alla parrocchia Resurrezione del Signore di Librino nei terreni del progetto pilota sugli orti urbani è stato effettuato dal sindaco di Catania Enzo Bianco accompagnato dagli assessori all'urbanistica Salvo Di Salvo e all'ecologia Rosario Dagata compiuti alcuni lavori preliminari di scermamento e ripulitura della zona. Dopo aver suddiviso in lotti l'area, l'amministrazione gli fornirà di un punto acqua per l'irrigazione e gli assegnatari potranno acquistare a prezzi agevolati piantine, pulbi, sementi fertilizzanti e antiparassitari naturali. Per ogni orto la cui assegnazione avrà durata quadrinnale con possibilità di rinnovo sarà pagato un canone annuo che sarà stabilito dal comune. Gli orti dovranno essere coltivati direttamente dagli assegnatari o dai loro familiari senza mano d'opera retribuita. 70 studenti stranieri provenienti da 15 paesi europei sono stati accolti questa mattina nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Università nel corso del tradizionale Welcome Day promosso dall'Ufficio per la Mobilità Internazionale dell'Ateneo Catanese. I ragazzi, grazie al programma Erasmus Plus, trascorreranno a Catania il secondo trimestre accademico in aggiunta ai 120 loro colleghi già presenti in città da settembre. I nuovi Erasmus provenienti da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Galles, Germania, Grecia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Spagna, Turchia e Ungheria hanno ricevuto il benvenuto dal rettore Giacomo Pignataro e dai rappresentanti delle associazioni studentesche tutte le indicazioni utili a conoscere e comprendere la cultura e le tradizioni del territorio. Oggi è il giorno dell'Erasmus Day, diamo il benvenuto ai ragazzi di tutta Europa che vengono a studiare qui da noi per un minimo di due mesi fino a un massimo di sei. Sono ragazzi che vengono da un po' tutta Europa ma prevalentemente da Spagna, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia, Germania e qualcuno alla Turchia e anche dalla Grecia. Sono 70 e si sommano ai 120 che già abbiamo avuto quest'anno nel primo semestre e diciamo che siamo in media sui ragazzi stranieri che vengono da noi a studiare. Noi stiamo cercando ovviamente di incrementare questo numero anche perché i nostri ragazzi, quelli che partono, sono circa il doppio e sono sicuro che molti vorrebbero venire a Catania però non conoscono bene ancora la nostra università quindi stiamo facendo di tutto per aumentare la nostra attrattività anche verso altri ragazzi. Vengo dalla Germania di Saprutin e ho scelto l'economia a Catania per nuove esperienze e per conoscere meglio la Sicilia. Tante nuove esperienze, amicizie e migliorare anche un po' la lingua. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, ha benedetto e posto idealmente il primo mattone nei locali della parrocchia Resurrezione del Signore in Viale Castagnola 4 alla presenza del sindaco Enzo Bianco accompagnato dagli assessori all'urbanistica e al decoro urbano Salvo di Salvo, al Welfar Angelo Villari, all'ecosistema urbano e per la valorizzazione di Librino. Rosario Dagata, un sogno di carità che si realizza nel cuore di Librino dove nascerà nei prossimi mesi la mensa della Caritas in memoria del beato Dusmet, cardinale e vescovo etneo che ha dedicato la propria vita ai poveri. L'opera caritatevole si estenderà su una superficie di quasi 300 metri quadri e potrà donare un pasto caldo a circa 200 persone con l'aiuto dei volontari della Caritas e della parrocchia. L'ingresso sarà libero così come avviene per l'Help Center della stazione centrale con le famiglie bisognose che verranno segnalate dal parroco. La mensa sarà realizzata anche grazie ad un piccolo contributo mensile 20 euro dei sacerdoti e dei diaconi della diocesi senza dimenticare diversi benefattori anonimi. I lavori inizieranno entro due settimane per concludersi tra due mesi. I lavori inizieranno entro due settimane per le famiglie bisognose che avviene per le famiglie